Allora direttore Foggia, chiaramente c'è il rammarico per la sconfitta ma probabilmente c'è grande rammarico per quanto si è visto nell'arco dei 90 minuti. Pescara dominante, Pescara padrone del campo, portiere della Vispesaro strepitoso e gestione arbitrale che è piaciuto a poco. Commentiamo una sconfitta che onestamente va dato merito alla Vispesaro che ha vinto ma abbiamo fatto secondo me una delle migliori partite. In termini di occasioni da gol ne abbiamo avute tantissime e tante non abbiamo fatto gol per non so cosa perché poi il secondo tempo l'ho visto dalla tribuna. Perché? Perché l'arbitro giustamente mi ha cacciato perché la motivazione è stata che gli ho detto che era scarso. Siccome, ripeto, per me non è scarso, è scarsissimo, che è diverso, io inviterei il designatore degli arbitri a far riguardare questa partita per la gestione della gara che ha avuto dal primo all'ultimo minuto. È stata una cosa imbarazzante. Quando uno è scarso, è scarso. Io ammetto che magari sbaglio e sono scarso se prendo un giocatore che fa male. Il giocatore ammette di fare una partita magari brutta e l'arbitro deve ammettere che ha fatto una partita vergognosa, ma vergognosa non per l'errore, per come è stata condotta. Questa è la cosa che a me dispiace. Per il resto si può tutti sbagliare, ma non bisogna essere presuntuosi. E lui è stato molto presuntuoso. Basta vedere come si relazionava con i nostri giocatori. Non so quanti falli hanno fatto loro, avranno preso un'ammunizione. Al novantesimo il portiere. Questo ti fa capire che è una partita gestita malissimo. Quindi invito il disegnatore a far rivedere la partita all'arbitro. È stata una cosa scandalosa. Secondo me non merita di arbitrare partite del genere. Analisi detta dal direttore sportivo del Pescara Pasquale Foggia. Andiamo sugli episodi. Foggia, poi parliamo della partita. A cominciare dal metro di giudizio differente, perché Ocoro lancia il pallone in tribuna, viene graziato. Primo fallo di Squizzato, cartellino giallo. Ma io quando parlo di gestione è questa. La gestione è questa. Perché anche il gol mi sembra che potrebbe essere in fuorigioco. Non l'ho rivisto. Ma è il metro di giudizio che è sbagliato. Perché hanno lanciato tre volte la palla fuori e non è mai stato ammonito. Nessuno. Noi mezzi falli e subito ammonizione. Squizzato prende due gialli. Il primo ci può stare. Il secondo, visto che è già ammonito, a meno che non entra per far male. Dare il secondo giallo e espulsione mi sembrava eccessivo. Poi la condotta della partita è stata proprio fatta a pennello. Sui due calci di rigore apparsi in presa diretta Solari nel secondo tempo su Brosco e Tonin. Ma ragazzi, quando io dico che l'arbitro non è scarso, ripeto, sono stato espulso perché ho detto scarso, ma per me è scarsissimo perché l'ho vista male. Ecco, e fa parte di questo che stiamo commentando. Ripeto, non è per la sconfitta, anzi, come ha detto anche il mister, questa è stata una sconfitta che ci ridà quella cattiveria in più per poterci poi riprendere i punti persi oggi. Perché oggi i ragazzi hanno fatto una grandissima prestazione. Grandissima. E quindi ringrazio loro, ringrazio i tanti tifosi che sono venuti. E sicuramente poi, quando sarà il momento, festeggeremo tutti assieme. Mi dà lo spunto per l'ultima considerazione che è proprio sulla partita. Grinta, ritmo, intensità, qualità, forza fisica per scala dominante. Assolutamente, ragazzi. Oggi abbiamo fatto una partita stupenda. Nell'enorme difficoltà di giocare in dieci contro una squadra comunque fisica che a tanti punti abbiamo fatto una gran partita. Quindi sono strafelice, strafelice per i ragazzi. Ripeto, oggi è incommentabile la gestione della gara. Perché, ripeto, ho 41 anni, gioco a calcio da quando non avevo 5. Qualche anno di campi li ho calcati, sia da direttore ma anche da giocatore. Un abito così scarso io non l'ho mai visto, mai.